Cambiano le regole per i sorpassi e il rischio di molte salatissi. Il sorpasso di una bicicletta deve avvenire a una distanza laterale minima di un metro e mezzo, pena una multa di oltre 300 euro e la sospensione della patente fino a tre mesi. Ma come capire esattamente quale sia la distanza ideale? E come verrà valutata dagli agenti della polizia? Sarà possibile fare ricorso e contestare la malta? Sono solo alcuni. Ma come capire esattamente quale sia la distanza ideale? E come verrà valutata dagli agenti della polizia? Ma come capire esattamente quale sia la distanza ideale? E come verrà valutata dagli agenti della polizia? Sarà possibile fare ricorso e contestare la malta? Sono solo alcuni. Ma come capire esattamente quale sia la distanza ideale? E come verrà valutata dagli agenti della polizia? La legge in esame riguarda il sorpasso delle biciclette e prevede l'obbligo per gli automobilisti di mantenere una distanza laterale di almeno un metro e medio. Questo è un passo importante per garantire la sicurezza dei ciclisti sulle strade italiane, considerando i numeri allarmanti degli incidenti in cui sono coinvolte. Tuttavia, c'è preoccupazione tra gli automobilisti riguardo all'applicazione della norma e alla valutazione della distanza laterale. Le molte previste sono molto salate e la sospensione della patente può causare problemi pratici per chi deve spostarsi per lavoro o per altre necessità. C'è anche la questione dell'educazione stradale degli automobilisti e molti incidenti potrebbero essere evitati se tutti gli utenti della strada fossero più consapevoli delle regole e dei loro. In questo senso, le campagne di sensibilizzazione e l'istruzione sui comportamenti corretti potrebbero essere molto utili. La sicurezza dei ciclisti sulle strade italiane è una questione di primaria importanza. Il codice della strada prevede anche l'obbligo per i ciclisti di procedere su una sola fila quando necessario. La sicurezza dei ciclisti sulle strade italiane è una questione di primaria importanza. Il codice insomma, l'attenzione e il rispetto delle regole del codice della strada sono fondamentali per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada, ma se si commette un'infrazione e si insomma, l'attenzione e il rispetto delle regole del codice della strada sono non resta che essere prudenti e rispettare le norme, altrimenti si rischia di mettersi a piangere.